qualche tempo fa come i quaderni del bardo edizioni della collana fuochi diretta da ottavio rossani abbiamo pubblicato l'interessante raccolta di versi di valeria dal bo del titolo onirico blues che trovate su amazon si tratta di una pubblicazione interessante perché il modo di fare versi di valeria dal bo tutto originale tutto suo non è frutto semplicemente di una come dire esplorazione del vissuto o una trasformazione in versi del vissuto del proprio tracciato biografico ma si tratta di un'esplorazione dell'onirico dell'inconscio dove non esistono contraddizioni senza scomodare ovviamente né jung né freud e il lettore si troverà quasi come all'interno di un quadro di De Chirico all'interno di un quadro magari di un salvador dalì consiglio ovviamente la lettura di questo testo soprattutto per chi ama scendere nelle profondità della poesia